Bentornati, Bentornati amiche e amici di Rossini TV sul nostro canale 80, lunedì sera la serata dedicata a CK Obiettivo Salute che realizziamo in collaborazione con la struttura Fisioradi Medical Center della zona qui Vismara di Pesaro. Questa sera abbiamo un ospite, un nuovo ospite, un nuovo medico che collabora da pochi mesi con Fisioradi Medical Center, si chiama Giovanni Consalvo Traina, buonasera dottore. Buonasera, radiologo, laureato a Napoli, specializzato a Roma, un lungo percorso, un marchigiano d'adozione, pensate dal 1982, l'anno dei mondiali, vive nelle Marche. Se li ricorda quei mondiali? Perfettamente. Perfettamente, dove l'ha vissuta la finale? Senigallia. Senigallia. Con degli amici a casa mi ricordo, è stato un evento epocale. Sì, perché nessuno se l'aspettavano, in realtà noi che abbiamo avuto la fortuna di vivere, siamo veramente testimoni di un qualcosa che era inatteso. Dottore, collabora da qualche mese qui con Fisioradi Medical Center, l'abbiamo detto, si trova sicuramente bene nel suo nuovo ruolo in radiologia con specializzazione per la senologia. Sì, mi trovo benissimo, le attrezzature sono perfette, il personale ben formato, mi sono inserito immediatamente. Peraltro, in una struttura che fa anche dell'attenzione nei confronti del paziente, una sua prerogativa. Qui c'è un percorso completo, la donna che vuole saperne di più, che vuole approcciare il suo percorso di salute, qui trova proprio qualcosa di definito dall'inizio alla fine. Certamente. Lo screening mammografico è fondamentale per assicurare la salute alle nostre donne e lo screening è una procedura medica che serve a modificare in positivo l'andamento della malattia. Gli screening tutti, ma in particolare quello sonologico, è validato da decenni di esperienza con dei risultati notevoli, tant'è che se il numero dei casi annui leggermente aumenta di anno in anno, per quest'anno sono previsti circa 55 mila nuovi casi in Italia con un incremento dello 0,5% rispetto agli anni precedenti, dove era fisso a 0,3 anno, adesso siamo passati a 0,5. Ma a fronte di questo incremento, soprattutto riguardante le fasce più giovani, cosa che prima le fasce più giovani erano indenni da questo tumore, adesso non lo sono più. A fronte di questo incremento si ha una riduzione della mortalità. Questo è dovuto a due fattori. Il primo è la diagnosi precoce e il secondo è l'efficacia delle terapie. Quindi lo screening ha un'utilità fantastica nell'individuare in tempo un eventuale tumore della mammella e consentire un trattamento radicale. Va da sé che trovare un tumore di dimensioni inferiore a un centimetro assicura nella quasi totalità dei casi la guarigione. Trovarlo di dimensioni oltre i due centimetri, questa probabilità di guarigione si riduce sensibilmente. Quindi è fondamentale sottoporsi a esami periodici in modo da riuscire a trovare in tempo eventuali patologie. Quindi chiaramente la precocità della diagnosi è fondamentale. Fare questo screening spesso, qual è l'età in cui le donne dovrebbero cominciare a preoccuparsi? Lei ha detto prima una cosa interessante, cioè che sta diminuendo l'età dell'insorgenza, anche se poi dopo magari c'è meno tasso di mortalità. Ecco, qual è l'età in cui le donne dovrebbero cominciare subito a fare il screening? 30 anni sicuramente, cominciare con un'ecografia. Nei sacri testi è descritto l'età di 40 anni per l'inizio della mammografia, però secondo me, secondo la mia esperienza, già cominciare con la mammografia associata all'ecografia a 38 anni è una buona precauzione, anche perché l'associazione di mammografia ed ecografia consente, fornisce un miglioramento della diagnosi, addirittura con una sensibilità che raggiunge il 30% in più, associando quindi mammografia dopo i 38 anni. Mammografia prima, seguita subito dall'ecografia, assicura questo incremento della sensibilità dell'esame che è molto importante, il 30%. Certo, ma ci può essere un motivo per il quale appunto c'è stata questa diminuzione dell'età? Probabilmente sono gli stili di vita. Gli stili di vita sono importantissimi in quanto un corretto stile di vita ridurrebbe l'incidenza dal cancro della mammella del 27%, che si intende per stili di vita. Quelli che sono devastanti sono fumo, alcol e dieta ricca di grassi animali. Quindi è importante abolire il fumo, ridurre notevolmente l'ingestione di alcol. Ecco, le nuove generazioni stanno facendo un grande abuso di alcol. Probabilmente questo avrà una ripercussione sullo stato di salute delle nuove generazioni. E assicurare un peso contenuto, cioè nei limiti dell'accettabilità, quindi più magri si è e meno probabilità si ha di incappare nel tumore del seno. A conti fatti, una donna su otto, nel corso della sua vita, va incontro al tumore del seno. Chi è sottoposto, ormai è documentato, che chi si sottopone periodicamente a controlli, il rischio di mortalità è molto più basso da chi invece non si sottopone ai controlli periodici. Certo, perché ritrovarsi con una situazione già grave ovviamente comporta una difficoltà nell'approccio terapeutico importante. Importantissimo. Chiaro, è tutto molto più difficile. Chiaramente anche l'attività fisica credo che sia fondamentale. Fondamentale. Pazienti che hanno una dieta sbagliata, quindi ricca di grassi animali, in sovrappeso, addirittura obesi, hanno più probabilità di incappare nel tumore del seno. E quello che è importante è che il sovrappeso, la sedentarietà, la dieta sbagliata, magari il fumo, sono caratterizzanti l'età in cui insorge più frequentemente il tumore del seno che in fase post-menopausale. Nella sua esperienza, dottore, lei ha colto una diversa proprio predisposizione della donna, della paziente, a volersi sottoporre a questo controllo? Probabilmente è un fatto culturale. Le persone che hanno una istruzione superiore accettano più di buon grado di sottoporsi all'esame. Persone magari che vivono in campagna, che non hanno stimoli in questo senso, o tramite lettura o tramite programmi televisivi specializzati nel settore, si sottopongono meno all'esame. Ecco, ed è proprio anche questo l'obiettivo di questo ciclo di trasmissioni di Check-up, obiettivo salute, quello di fare cultura, quello di dare informazioni, quello di dare stimoli. Grazie al format che abbiamo studiato, in maniera che potesse diventare un po' più approfondito il rapporto con il professionista, questo è possibile. E poi, se pensiamo che viene fatto appunto in una struttura come Fisionati Medical Center, che effettivamente mette a disposizione delle persone tutti gli strumenti adatti per fare questo lavoro di prevenzione molto bene. anche da un punto di vista, pensiamo solamente dalla dieta, lei ha detto questa cosa, qui c'è la possibilità di prepararsi bene fisicamente anche da quel punto di vista. Esattamente. L'attività fisica è determinante. Questo è un consiglio che viene dato non solo per il tumore del seno, ma per migliorare lo stile di vita e assicurarsi una migliore qualità della propria salute. E i controlli vanno fatti. Tra l'altro, attualmente, come in questo centro, l'utilizzo di tomosintesi consente, a parità di esposizione radiologica, una qualità nettamente superiore dell'esame mammografico. Dicevo, ecografia e mammografia non sono la stessa cosa. I principi fisici sono completamente diversi. La mammografia utilizza radiazioni ionizzanti e i raggi. L'ecografia utilizza ultrasuoni. I raggi hanno, anche se, ripeto, nella mammografia il dosaggio è minimo, però non sono delle radiazioni benefiche. Viceversa, l'ecografia si può fare a qualsiasi età, perché non comportano nessun rischio per la salute. A conti fatti, il costo-beneficio, danno da radiazioni e individuazione di un tumore iniziale è nettamente a favore di quest'ultimo. Quindi la mammografia va fatta, indipendentemente dai distingui che si fanno, a volte le radiazioni fanno male o no. Se si trova un cancro precoce, ci si salva. Il tumore indotto dalle radiazioni è un evento molto, molto raro e trascurabile. Peraltro con le nuove tecnologie è anche diminuita proprio la quantità di radiazioni perché vengono colpite più specificamente le zone interessanti. Ecco, mi piacerebbe sfatare un mito, la compressione. Alcuni pazienti non fanno la mammografia perché accusano dolore durante la manovra di compressione del seno. In realtà la compressione serve a ridurre la quantità di radiazioni e a migliorare la visibilità del seno. Quindi è una compressione di qualche chilo esercitata sulla mammella, dura pochissimi istanti e immediatamente dopo lo scatto viene rilasciato. In realtà anche qui il costo-beneficio è nettamente a favore della compressione. Considerate che quello che sta dicendo il dottore è fondamentale perché tutte le pratiche mediche vanno concepite in questo senso. Rapporto-beneficio contro eventuale, fra virgolette, effetto collaterale. Questo vale per tutto quindi, dottore. Dottore, lei sta a Senigallia, lo dicevamo prima. Queste tre magnifiche città, Pesaro, Fano e Senigallia, ammesse quasi una dietro l'altra, molto simili. Si trova molto bene, vero? Molto bene, sì. Lavorato dall'82, vivo a Senigallia, mi sono sposato a Senigallia. Ho tre figli, di cui una è medico di medicina generale, e gli altri sono, uno è dottore in economia e l'altro è ingegnere delle telecomunicazioni. Ho lavorato tanti anni presso l'ospedale di Senigallia e ho un bellissimo ricordo della mia attività ospedaliera. Ma discutono sul fatto che i telefonini possono dar fastidio con le radiazioni oppure no? Perché uno è telecomunicato e l'altro? Sì, perché... Sicuramente danno fastidio. Sicuramente danno fastidio. Ecco, la gente sta attaccata al telefono per ora e magari ha delle perplessità riguardo alla mammografia. Completamente un'altra cosa. Davvero una contraddizione. Poi dopo comunque lei, per quanto si sia adattato e stia benissimo nella nostra terra, che noi adoriamo e amiamo con la sua vivibilità, però ha conservato la sua passione siciliana. Mi diceva prima, peraltro, che ama tantissimo i cosiddetti luoghi di Montalbano. Addirittura ha un punto di riferimento a Vittoria, che è una città bellissima, in provincia di Ragusa, esatto, quasi al confine con la provincia di Agrigento. Bellissimo. Di Caltanese. Di Caltanese sto sbagliando tutto. Ecco, la mia sicilianità è stata distrutta dal dottore, giustamente, ma effettivamente è una zona d'Italia meravigliosa, dottore. Ci faccia uno spot, facciamo uno spot, l'abbiamo fatto per la nostra zona, facciamo uno spot di 30 secondi per la Sicilia. Eh beh, Sicilia, arte, cucina e cordialità. Grande accoglienza. Grandissima accoglienza. La grande accoglienza che ci ha riservato lei, dottore, con questa chiacchierata è stata interessantissima, e la ringraziamo, insistiamo sull'importanza della prevenzione, sull'importanza di fare gli screening. Sicuramente. Lo screening si divide in due forme. Uno è lo screening pubblico offerto dal Sistema Sanitario Nazionale, che contempla una mammografia ogni due anni, senza l'ecografia. La mammografia da sola può coprire fino all'80% riguardo alla sensibilità dell'esame, quindi sfugge un 20% di tumori. Lo screening volontario, viceversa, comprende sia la mammografia che l'ecografia, e quindi questa sensibilità di questo pacchetto arriva al 96%. Non esiste una metodica che ci dà il 100%. Partiamo da questa considerazione, ma già il 96% è tantissimo. Dottore, grazie ancora. Grazie a voi. Grazie a voi tutti per averci seguiti. Appuntamento alla settimana prossima. Buona serata a voi. Grazie a tutti per averci seguiti.